Ciao a tutti, popolo del tubo e bentornati qua su Police Shootout, il nostro simulatore di vita poliziesca, questo gioco che è fighissimo, che sembra quasi un telefilm tipo si esai, nonno esosi, forse eso, comunque tanta 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 roba su questo giochettino, sono contento che vi sono piaciute le puntate precedenti e quindi eccoci qui a continuare questa serie finché le visual, come tutte le serie insomma sul mio canale, finché le visual saranno decenti. Allora, amici miei, abbiamo risolto l'altra volta il caso, se vi ricordate del supermercato, la mammina è insoddisfatta perché noi abbiamo recuperato la figliola dal bagno, abbiamo visto che c'è un giro di mafia, un giro di zucchero a velo, un giro di tanta robina e adesso iniziamo con altri due casi, stalker nel motel o ostaggio alla stazione. Adesso noi andiamo ad acchiappare lo stalker, acchiappamo gli stalker. Poi, prima però, vi ricordo che in descrizione c'è la mia piattaforma dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere, se avete Amazon Prime potete sostenermi con un abbonamento gratuito. E poi, ringrazio gli amici che mi offrono il caffettino, voi non mi vedete ma io ho fatto il simbolo della tazzina, con il tasto super grazie qua sotto potete offrire un caffettino al vostro Robimello e aiutarlo tantissimo. Nella giornata di ieri mi hanno offerto il loro caffettino Serenuccia, Jonathan Zingarino, Lumax Rossi e Matteo Gagliano. Grazie ragazzi perché per voi sarà anche un semplice caffettino, per me è la vita, quindi grazie, grazie per la vita. Allora, stalker nel motel, andiamo là, ci hanno chiamato dal motel, adesso vedremo un attimino la missione. Ok, allora, segnalazione, il sospettato stalker della sua psicologa, ah ecco quindi un paziente che stalkerizza la psicologa, Thomas Jones, è stato visto in un motel della zona. Il sospettato dovrebbe essere portato alla centrale di polizia per essere interrogato. Ok, ce penso io, ce penso io, lei ha una denuncia per stalking, come si chiama Thomas Jones, come ho detto, come ho detto che si chiama, non mi ricordo più, Thomas Edison lì, come si chiama? Allora, no, non devo salire, sì, voglio vedere il nome, Thomas Jones, no, non devo continuare il gioco, porca miseria, devo solo scendere dalla macchina. Ok, a portiera qua, non si chiude su sto gioco, ok. Buongiorno, è lei Thomas Jones? Buongiorno, è lei Thomas... Oh, Boris, che succede? Ci dica signor Boris. Una donna che piangeva. Ah, ho capito. Ho capito. Studentesse scomparse. L'estremità opposta dell'odificio. Dare un'occhiata, grazie. Allora, cominciamo a vedere un attimino i casi. L'urla dell'uomo e il pianto della donna si sentiva in una delle stanze. Due giovani ragazze sono state recentemente perse nella zona. Porca miseria. Non sarà che questo, più che uno stalker, è un killeraccio? Non sarà che è un killeraccio questo? Questo che è, quello che ho fatto adesso? Qua dentro che c'è? Qua dentro chi c'è? Qua dentro chi c'è? Chiuso. Vediamo un po' sotto. Chiuso. Qua è aperto. Buongiorno. Buongiorno, polizia. Polizia. Nessuno. Ma questo è sempre quello e un altro. Io non riesco a capire la gente, è tutto uguale. Ecco, vediamo quel polla. Vediamo il signor polla. Ho sentito... Ha sentito? Ok. Ok. Ok, questo non ha sentito niente, è arrivato adesso. Vediamo la signorina qua. Signora anziana! Allora, ricapitoliamo. Che cosa ci ha detto la vecchia? Ha dato apertamente la colpa della serie presa da sua moglie, riproverandoli a risportarli, non capirle? Ok. Ok, ok. Perfetto. Facciamo un altro bel giretto qua dentro. Oh, ma sto motello è inquietante davvero. E qua chi c'è? Buongiorno. Mi scusi se mi fiondo così nella sua stanza. Ah, lei è il capone. Ok. Allora... Ah, è mio fratello. Quindi mio fratello t'ha ciulato il portafoglio. Ma non credo sia il fratello... No, non è... Sì, è mio fratello, forse. Allora. Allora. Mmm. Mmm. Ok. In che stanza posso trovarlo? Camera 01 al primo piano. Ok. Ok. Camera 01. Ok. 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 Allora, il codice è... 14452. Qualcosa in più. E tutto per ora. Ok, ci penso io. Andiamo ad acchiappare sto tizio, va. Andiamo ad acchiappare sto tizio. Quindi, stanza 001 abbiamo detto, eh. Però dice che... Lui ha affittato due stanze. Dice che lui ha affittato due stanze. Allora, questa è la 001, giusto? Questa è la 001. Però io vorrei controllare... Però io vorrei controllare... Uh... Quello c'ha la pistola. Uh... Quello c'ha la pistola. Ragazzi. Ragazzi, questo c'ha la pistola. Bisogna armarsi. Bisogna armarsi perché c'ha la pistola. Però mi pare che nelle altre stanze... Vediamo se... Allora. Allora. Chiudi, chiudete. Chiudete dentro, figlio. Chiudete dentro. Questa è chiusa. No, perché magari c'era qualche indizio... Su qualche altra stanza. Allora. Dobbiamo... Vada dentro! Vada dentro! Allora. Allora. Sì. Allora. Entra nella stanza e sospetta neutralizza. Al tiro è sospetto fuori dalla stanza. L'ostaggio... Quindi è meglio la sparatoria... Falla fuori la sparatoria. Allora. Innanzitutto. Ricapitoliamo. Dati personali confermati. Chiave della stanza 1. Il confronto diretto è pericoloso. Sarebbe possibile attirare il sospettato fuori dalla stanza. Il sospettato è l'ostaggio. Il sospettato non ha ferito fisicamente l'ostaggio. Ok. Ok. Adesso chiamiamo anche... Chiamiamo anche la centrale. Centrale. E gli diciamo che siamo arrivati. Il tizio era ancora per depressione. Mi ha smesso di prendersi i medicini. Ha avuto degli sbalzi tumore. Ok. È armato e solo. Ok. La vita della donna è la nostra priorità. Nessun scontro diretto. Dobbiamo farlo uscire dalla stanza. Ok. È anche incensurato. Quindi. Quindi. Automaticamente. Il sospettato è in cura per la depressione. Mostrava da qualche tempo l'interesse esagerato per la vita privata della donna. Ok. Adesso. Non c'è il tasto per accucciar se è questo. Noi dobbiamo riuscire a... Però come? Come lo facciamo uscire fuori? Come cacchio lo facciamo uscire fuori? Forse la miglior cosa è manganellarlo là dietro. Dagli una botta di manganello sulla capoccia. Dagli una botta di manganello. Tenete prevuto interact per aprire con la chiave. Perché qua non ci dice bussa. Non ci dice nulla. Quindi come cacchio... Cioè... Non dice polizia. Aprite. Eccolo. Sta girato. Allora facciamo una cosa. Prendiamo il manganello. Non se ne è accorto sto scemo che... Che c'è la porta aperta. Prendiamo il manganello e cerchiamo di... Non ci ha visto. Non ci vede. È abbastanza scemo questo. È abbastanza scemo. Eccolo. Ma non so se... Mettiamo qua. Speriamo che non ci vede. Ah! C'è il tasto per chiamare! C'è il tasto per chiamare! Adesso torniamo fuori e lo chiamiamo. Torniamo fuori e lo chiamiamo. Non si può chiamare. Ma si può chiamare solo... Ehi! Si può chiamare solo una volta che stai dentro. Ok. Quindi ci dobbiamo mettere al sicuro dietro un mobile e poi dire... Lei è il signor Thomas Peterson. Venga fuori con le mani. No. Da qua non si può chiamare. Bisogna aspettare che arriva là. Ma io... Io so per il vecchio metodo... Martellata dietro la capoccia. Perché con questa gente qua è difficile negoziare. È difficile negoziare con questa gente qua. Ci stava per vedere... Avete visto? Ci stava per vedere... Ecco. No! Ci ha quasi visto. Porca miseria. Ci ha quasi visto. Ci è mancato poco. Ci è mancato porco. Ci è mancato un porco. Piano ragazzi. Dobbiamo essere più cautini. Dobbiamo essere più cautini. Qua spero che non ci veda. No. Stiamo dietro al mobile. Non ci vede. Adesso dobbiamo andare a dargli una botta sulla capoccia. Proprio... Come se non ci fosse... Come se non ci fosse un domani. Stricchi! A posto. A po... Mamma mia ragazzi. Ma quanto so forte. Ma quanto so forte. Manette. Avanti. 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 Le faccio vedere io. Se si maltrattano le belle ragazze. Avanti. In galera. Avanti. Avanti. Allora. Che volevo fare? Non dirò nulla. Ok. Signorina. Come sta? È finito tutto. Sì. Sì. Signorina. Si alzi. Si alzi. Ah. Questa è la moglie. Ha rapito la terapeuta. Ah cavolo. Cavolo. Dobbiamo capire dov'è la terapeuta. Senti. Dimmi dov'è la terapeuta. Ok. Ok. Oh. Guarda. Mi prudono un po' le mani. Meno male che non sono un poliziotto vero. Guarda. Mi prudono veramente le mani. Allora. Cerchiamo di trovare indizi nella stanza. Intanto. Avvisiamo la centrale. Avvisiamo la centrale che il sospetto è neutralizzato. Che l'ostaggio è sicuro. Ok. Sì. Però magari potresti dire alla centrale che c'è l'altra donna da recuperare e mi manasse un po' d'aiuto. E magari riuscimo a capire meglio. Signorina. Lei non ha niente da dirmi. Ok. Sì. Ma questo lo lasciamo qui così. Signorina. Lei si fida? Lei si fida? Qui c'è sanguetto. Chiusi. Non si può perquisire. Vediamo nella stanza se c'è qualcosa di utile. Ma dubito che ci sia qualcosa di utile. Trova il secondo stagio. Qui fanno la fine della ragazzina Nercesso. Che non si riesce a capire. Lui ha detto. C'è un'altra stanza. C'è un'altra stanza quello affittato. Quindi probabilmente. Probabilmente lei l'ha messa. Nell'altra stanza. Questa però è la stanza del signore di prima. Quindi non credo che sia questa. Vediamo un po'. Qui è tutto chiuso. Eh mi tocca andare a parlare col gestore. Mi tocca andare a parlare col gestore. Oppure controllare tutte le altre stanze. Andiamo a controllare tutte le altre stanze. Perché sicuramente una l'ha messa dentro. Allora gestoro. Gestoro. Questo è quello che gestisce i Tori. Gestoro. Allora. Guarda la 3 al piano di sotto. Ok. Non si allontani. Non si allontani. Non si allontani. Non si allontani. Ok. Apriamo. Apriamo. Eeeh. Armi e contanti. Eeeh. Qui c'è una chiave. Chiave del veicolo. Ottimo. Pistola. Contanti. Quanta roba. Abbiamo segue stradazzo. Sì ma. Ecco. Questa è la porta del bagno. Ed è chiusa. Lo sapevo io. Lo sapevo. Ma dopo me di te stava nel bagno. Eh. Come si entra nel bagno? Allora. Chiave del veicolo. Ho trovato pistola e soldi. Ok. E poi. Andiamo a. Capire un attimino. Eeeh. La radio. Armi e contanti. Ok. Adesso abbiamo la chiave del veicolo del tizio. Qual è il veicolo del tizio? Che ne so io qual è il veicolo del tizio? Come faccio a capire qual è il veicolo del tizio? E' questo? E' questo il veicolo del tizio? Sicuramente ce l'ha nel bagagliaio può darsi. Sì ma. E' questa. Questa classica macchina da psico. Da psycho killer. Eeeh. Quale sarà la macchina del tizio? Qui c'è se può nà. Raga ma io non so qual è la macchina del tizio. Ma magari me lo può di. Chi ci fa un cesso fuori? Fuori. Vabbè. Magari me lo può di il tizio qua. Qual è la macchina? Scusa bello. Qual è la macchina? Eeeh. No. Niente. No. Eeeh. Ragazzi non so qual è la macchina del. Ragazzi non so qual è la macchina del tizio. Mi scusi signorina eh. Ma lei ha visto? Allora. E' il tizio della 1. Ok. Non la 1 la macchina eh. Bianco. Ok. Un camion bianco. Un camion bianco. Un camion bianco. Senta. Lei ha visto un camion bianco? Sì. Lui saw one. I think the guy from room 1. Ok. Dietro la tavola calda. Grazie. Grazie. Quindi camion bianco dietro la tavola calda. Perfetto. Probabilmente sta dentro lì il secondo stagio. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccola qua. L'abbiamo trovata. Oh sta bene signorina. Perfetto. Perfetto. Centrale. Tutto risorto. Centra. Centra. Tutto risorto. Centra. Tutto risorto. Tutto risorto. Centra. A posto. Torna la volante. Tutto risorto. Centra. Mamma mia quanto è stato bravo Robimello. Stavolta ha risolto tutto. Robimello ha risotto tutto ragazzi. Tutto è risorto. Oh ragazzi. Ragazzi. Tutto risorto. È tutto risorto. Ragazzi. Concludiamo la missione. E vediamo un po' stavolta se abbiamo fatto tutto per bene. 92%. L'unica cosa che non abbiamo fatto è attirare il sospettato fuori dalla stanza. Ma abbiamo deciso di agire senza contrattazioni. Io con certi individui. Mano pesante ragazzi. Mano pesante. Vediamo qua il giornale se parla di noi. Perfetto. 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 Agente di polizia nominato Erlok Sholmes locale. Erlok Sholmes. Per non pagare diritti di Sherlock Holmes. Erlok Sholmes. Per non di Sherlock Holmes. Mamma mia. Bellissimo. Bellissimo. Comunque ragazzi. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Fatemi sapere se volete un altro episodio di questo gioco. Ma è quasi un telefilm. È quasi un telefilm ragazzi. Vediamo un po' che possiamo sbloccare. Riduce il tremore della mano. Ok. E aumenta l'aria dello sparo. Perfetto. Perfetto. Ok. Abbiamo sbloccato sta cosa. Ragazzi. Fatemi sapere. Fatemi. Fatemi sapere se volete andare a prendere anche l'ostaggio alla stazione. Nella prossima puntata. Voi commentate. Lasciate un bel like. Attivate la campanellina. E mi raccomando. Non dimentichiamo di salutare gli amici abbonati. Che sono l'anima, la vita, il cuore di questo canale. Consentano il canale di sostinenza andare avanti. E portare tutti questi contenuti. Amici. Io vi saluto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. 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 Ciao.